Nuove tensioni nella famiglia reale inglese dopo la morte della regina Elisabetta. Harry e Meghan Markle, stando a quanto si legge su alcuni tabloid made in UK, sarebbero su tutte le furie per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, sono diventati rispettivamente principe e principessa dopo la scomparsa della bisnonna ma senza acquisire il team a prendere la decisione il nuovo re Carlo III in persona, tanto che ci sarebbe stata una lite furibonda con Meghan e Harry. Secondo il son, il secondo genito di Diana e la moglie americana sarebbero arrabbiati e delusi perché questa esclusione priverebbe i due bambini della scorta garantita alle altezze reali dei Windows. Attraverso questo appellativo i principi potevano infatti usufruire di fondi pubblici e godere della protezione della polizia, anche questa finanziata dall'età stemma quello della sicurezza su cui il principe Harry è già entrato in passato in conflitto, avviando un'azione legale contro il Ministero dell'Interno per chiedere un'adeguata tutela della polizia quando si trova con la famiglia nel re. Sempre secondo i giornali, Harry e Meghan avrebbero evidenziato il fatto che le figlie del principe Andrea, Beatrice ed Eugenia godono dello status al centro della diatriba nonostante non siano reali che rappresentano ufficialmente la corona in seguita agli scandali del padre, anche se si parla di un nuovo ruolo inedito e importante in futuro per Beatrice, che era molto legata alla defunta Anna. Da palazzo fanno sapere però che il re Carlo ha preso questa decisione non per fare un dispetto al secondo genito e alla nuora ma solo per snellire la corte inglese e non gravare sui contribuenti. A corte ci sono già troppe persone con il titolo de'altà. Considerando, tra l'altro, che la regina Elisabetta aveva deciso qualche anno fa di assegnare quel titolo agli altri due figli del principe William e Kate Middleton, Charlotte e Louis di Cambridge, che per la legge non ne avevano di più.